Questa banda, signori e signori, l'avete visto già nello spot, lo dobbiamo dire Alla via a sinistra, col numero 10, i tacchetti freschi freschi Entra in campo Saxman Mr. Luigi Zipiti Alla via a destra, ragazzi attenzione, numero 9, quello che fa il passaggio Tacchetti freschissimi, signori al violino, lo fa parlare Massimiliano Di Stefano Alle spalle di l'esame, Luca Aliffi E allora vediamo il benvenuto e partiamo così Preparate le mani Preparate le mani Tutta la piazza, tutta la piazza, piano 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 che cerchiamo di scaldare, vai 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 Grazie 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 Rubble 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 Arziamo le mani al cielo, proviamoci dai! Dai ragazzi, vogliamo tutte le committive qui davanti, avvicinatevi sotto il banco, vai! Un giro Un giro Questa è una notte Un giro Un giro Un giro Un giro Un giro Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.